La disoccupazione cala, le aziende assumono, ma gli operai specializzati non si trovano. È in questo quadro che si colloca il Lecco Skills Training Lab, il corso di riqualificazione professionale per operai meccanici che si svolge presso il Laboratorio Territorialità per l'Occupabilità collocato negli spazi dell'Istituto Fiocchi. Dei 32 candidati che rispondevano ai prerequisiti, disoccupati o inoccupati, residenti in provincia di Lecco tra i 18 e i 55 anni, 20 sono stati presi per seguire il percorso di formazione e diventare operatori meccanici su macchina controllo numerico computerizzato. Tra gli enti che hanno collaborato all'iniziativa, la provincia, la Camera di Commercio di Lecco e Como, l'Ufficio Scolastico Territoriale, Confindustria, Confartigianato e Api Lecco e Sondrio. Per rispondere alle esigenze delle aziende metalmeccaniche del territorio provinciale, una formazione di 365 ore tra lezioni frontali e laboratori. Al termine del percorso, nella seconda metà di maggio, i partecipanti avranno acquisito le competenze per stilare programmi base da testare in macchina, sapendo identificare le corrette strategie di lavorazione e scegliendo opportunamente materiali, utensili e corretti procedimenti per il controllo dimensionale. Seguirà un periodo di tirocini o strumento per far sperimentare direttamente sul campo quanto appreso durante il corso, applicandolo in un contesto aziendale. Oltre a un'indennità mensile di tirocini o pari a 500 euro, è prevista anche l'erogazione corsissi di un'indennità di partecipazione legata alla frequenza delle lezioni, che sono gratuite.